Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd. Stasera, venerdì 24 luglio, andanno in onda su Sky Atlantic le prime due puntate della miniserie Il complotto contro l'America. Questa miniserie meravigliosa e durissima è composta da sei episodi, nonché tratta dal romanzo capolavoro del 2004 di Philip Roth, The Plots Against America. È un progetto originale HBO e sapete che HBO vuol dire qualità. E si basa su uno dei votif più grossi della storia. E se negli anni 40 gli Stati Uniti d'America fossero diventati un paese filo nazista, scoprite molto di più su Il complotto contro l'America in questa mia recensione, rigorosamente senza spoiler. Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd e cliccando sul tastino Iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare, che è sempre una cosa importantissima. E se volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopolinerd Everywhere, allora followatemi su Instagram, mettete mi piace alla mia pagina Facebook e condividete questo video in ogni dove. Bene, ciancio alle bande e sigla! Vi posso dare un consiglio. Nonostante da oggi il complotto contro l'America sarà disponibile interamente su Sky Box Set, vi consiglio un'altra tipologia di visione, ovvero quella di seguire la messa in onda due puntate per venerdì sera prevista da Sky Atlantic, perché solo con una visione più diluita riuscirete ad apprezzare tutte le nuance, tutti i significati, manifesti e non che potete trovare in The Plot Against America. Quindi stavolta niente binge-watching davvero. Beh, praticamente avete già capito che cosa penso di The Plot Against America, il complotto contro l'America, e mi è piaciuta, e c'è poco da fare, ma ancora non vi ho svelato cosa mi ha sorpreso di più dell'intero progetto. La sua modernità. Il romanzo fantapolitico scritto nel 2004 da Philip Roth, appunto il complotto contro l'America da cui questa miniserie è chiaramente tratta, racconta con un'ucronia, ovvero l'utilizzo di un what if e se, una storia passata alternativa, ovvero la storia degli Stati Uniti d'America negli anni 40. E questo what if e questo e se, come vi anticipavo nell'intro del video, è una roba bella grossa. E se nelle elezioni del 1940 in America non avesse vinto Franklin Delano Roosevelt, ma Charles Lindbergh? Charles Lindbergh, badate bene, vero eroe nazionale, perché nel 1927 aveva compiuto la prima trasvolata dell'oceano atlantico senza scalo e in solitaria della storia. Quindi un pezzo grosso per davvero, che aveva una presa incredibile sulla popolazione degli Stati Uniti e non solo. Ma, a parte il suo ovvio eroismo, nutriva anche delle simpatie filo-adolfiane. Ecco, non vorrei utilizzare troppe volte determinati termini che magari YouTube potrebbe trovare un po' troppo forti e quindi penalizzare e magari oscurare questa recensione. Perciò, se ogni tanto mi sentite utilizzare qualche parola impropria e magari anche un po' buffetta, non vi preoccupate, non sono uscita completamente di testa. Il mio scopo? Nel candidarmi alla presidenza. Perciò il compito decisamente poco facile che si prefigge il complotto contro l'America è quello di raccontare come sarebbe stata la storia del mondo se gli Stati Uniti d'America non fossero stati la patria della libertà, ma la patria di qualcuno amico di Baffetto. Poiché nonostante a tutti i protagonisti del romanzo e quindi della miniserie sembrasse impossibile che una tale ideologia politica potesse attecchire negli Stati Uniti d'America si sono dovuti ricredere perché The Plot Against America porta a galla il lato oscuro dell'America, quello che tra l'altro stiamo vedendo anche in quest'ultimo periodo. Sì, perché gli Stati Uniti d'America non sono solo la terra della libertà, delle possibilità, del sogno americano appunto, e invece no, c'è molto di più, moltissimo di più. Perché passano i decenni, trascorrono gli anni, eppure The Plot Against America e assieme i telegiornali odierni ci insegnano che nulla cambia. E quindi tutte le emozioni, tutti i sentimenti che proverete mentre guarderete le sei puntate che compongono The Plot Against America saranno ancora più amplificate dalla consapevolezza di guardarle oggi. Ti sconvolgerà appunto, tuttavia è incredibile come questa miniserie ci riesca benissimo senza mai ricorrere al sensazionalismo. Il complotto contro l'America è una miniserie che racconta una storia estremamente difficile e lo fa tra l'altro applicando un approccio altrettanto difficile nella narrazione dei personaggi e quindi tutta sta roba difficile trattata però mai scegliendo le vie più semplici, mai scegliendo le vie più scontate. Perché certo sarebbe stato facilissimo, ah perde Roosevelt alle elezioni del 1940 e vince Lindbergh, una settimana dopo si vedono pum 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 sparatorie, bombe, robe così, sensazionalismo trash allo stato puro. A parte che ovviamente questa miniserie HBO è all'insegna dell'eleganza massima in tutto e per tutto, ma racconta questo lento sconvolgimento sociale e politico all'interno degli Stati Uniti d'America attraverso i punti di vista di una famiglia di fede ebraica, famiglia protagonista, e altri punti di vista, sempre di personaggi di fede ebraica, ma vi spiegherò meglio nel dettaglio. Impariamo a conoscere la famiglia Levin, composta da padre, madre, un figlio maggiore e un bambino di nome Philip, che altri non è che Philip Roth, sì perché l'autore Philip Roth ha immaginato come sarebbe stata la sua infanzia, come sarebbe stata l'esistenza della sua famiglia se appunto quando era bambino lui nel 1940 fosse successo questo grandissimo what if. Quindi i personaggi che vediamo comporre la famiglia Levin non sono altro che i suoi parenti veri, il suo fratello maggiore, sua madre e suo padre, con tutti i loro pregi e tutti i loro difetti. Con la famiglia Levin vive il cugino Alvin, una vera testa calda, che sarà un punto di vista estremamente interessante nello svolgersi della storia lungo i sei episodi. Altro punto di vista fondamentale e diametralmente opposto rispetto a quelli offerti dalla famiglia Levin e dal cugino Alvin è quello del rabbino interpretato straordinariamente bene da John Turturro. Questo comincia a rispondere alle tue paure? Perché se i membri della famiglia Levin sono terrorizzati dalla possibilità che con la vittoria di Lindbergh possa verificarsi negli Stati Uniti ciò che sta succedendo agli altri fedeli di fede ebraica che vivono in Germania? Il rabbino interpretato da John Turturro è super pro Lindbergh. Lo si può definire collaborazionista? Dunque, in realtà, come vi dicevo, The Plot Against America non prende nessuna via facile, né per raccontare la storia, tantomeno per raccontare i personaggi. Perché i personaggi più di spicco all'interno della storia, ovvero coloro che hanno una coscienza politica più sviluppata rispetto agli altri, conservano in loro luci e ombre. Il che vi spingerà a stare dalla loro parte, ma anche a ritrarvi, perché effettivamente esiste un essere umano sul pianeta Terra, di cui approviamo ogni singolo comportamento dalla sua nascita alla sua morte al 100%? No. E questo vale anche per i personaggi del complotto contro l'America. Anche il cambiamento politico che avviene negli Stati Uniti d'America dopo l'elezione di Charles Lindbergh è un qualcosa di silente, di graduale, non urlato in piazza appunto con sparatorie. No, è proprio un cambiamento step by step nella trama della società. Si respira nell'aria, non si vede in giro, almeno all'inizio. È qualcosa che percepisci, non che puoi toccare con mano. Il che rende ancora più angosciante la situazione raccontata da The Plot Against America, è ancora meno appunto sensazionalistica. Capiate che questa miniserie vi entrerà dentro e lì resterà, facendomi riflettere, pensare ancora giorni e giorni dopo averla terminata. E effettivamente ci riescono in questo incredibile obiettivo solo i prodotti fatti veramente bene, ovvero costituiti da strati e strati di sfumature. Poiché di sfumature sono composti i personaggi principali all'interno della storia. Di sfumature è composto in lento cambiamento. Molti comportamenti, molte azioni compiute dai personaggi sono interpretabili in vari modi, anche piuttosto diversi fra di loro. C'è solo un grande male in The Plot Against America che è rappresentato dall'ideologia di Baffetto e insomma di tutti coloro che condividono tale ideologia con lui. Tutto il resto è passibile di interpretazioni. E la composizione estremamente sfaccettata ed estremamente stratificata dell'opera la si nota anche nell'escalation della violenza, nell'escalation della tensione, dello stato di ansia, di disagio che proverete guardando questa miniserie. Perché la condizione che si trova a vivere la famiglia Levin e con lei tutti gli altri fedeli di fede ebraica e anche tutti coloro che vengono considerati diversi stando alla filosofia sciroccata del Baffetto, che giura sempre più gradualmente come vi dicevo prima, seguendo un climax di tensione che tuttavia non arriva al suo apice, non arriva al vertice. Il che va contro la maggior parte dei prodotti che siamo abituati a fruire, cartacei e non, in cui avviene la tragedia. La tragedia serve volutamente per scuotere il lettore, il fruitore. Invece qua parte l'anticlimax, ovvero la distensione della storia prima che si arrivi alla vetta. Il che, devo essere sincera, all'inizio mi ha fatto un po' storcere il naso, ma tuttavia, pensandoci e ripensandoci, mi sono resa conto di quanto questa soluzione sia elegante, sia originale, sia coraggiosa e di quanto sia realistica. Insomma, avrete capito che The Plot Against America, il complotto contro l'America, mi è piaciuto tantissimo. Guardatelo, non fatevi scappare un prodotto simile, perché sia dal punto di vista della qualità è veramente una perla, ma anche dal punto di vista dell'attualità è quanto mai doveroso fruirlo nella maniera migliore. Quindi non binge watchatelo. È un prodotto troppo importante dal punto di vista storico, dal punto di vista letterario, dal punto di vista televisivo, insomma, dal punto di vista della qualità, che veramente, sorbito così in sei ore, poi non ci pensi più? No, per piacere, non fate questo al complotto contro l'America. Se questo video vi è piaciuto, come è piaciuto alla banda di masnadieri savonesi alle mie spalle, allora dovete fare sempre le solite cose, ovvero mettere mi piace, lasciare un commento, iscrivervi al canale YouTube di Cosmopoliner, dattivando anche la campanella delle notifiche su in alto, che è sempre una cosa importantissima, altrimenti, altrimenti niente, penso che berrò un sorso di tè. Grazie a tutti.